Continuo a ripetere, se non leggo male, se non sono informata male, non ci saranno lockdown. Uno si chiede ma chi ne aveva parlato del lockdown? Io almeno non l'ho sentito. La Meloni dice se risalgono i contagi vuol dire che il governo ha preso misure sbagliate. Il destino di Salvini ancora per un po' è di soffrire la competizione a destra della Meloni inevitabilmente, anche con queste nuove chiusure, nuove restrizioni. Ma sì, Salvini ha sempre il problema di giustificare la sua presenza, non solo la presenza al governo, ma il sostegno a misure che rappresentano un ribaltamento delle sue posizioni. Aveva detto no al Green Pass e c'è stato il Green Pass, aveva detto no al Super Green Pass e c'è stato il Super Green Pass, aveva detto via Speranza e Speranza sta ancora là, aveva detto via L'Alamorgese e sta ancora là. La Meloni dice una cosa sostanzialmente falsa, non è vero, l'ha spiegato anche oggi, su questo Draghi in conferenza stampa. Noi non stiamo come l'anno scorso innanzitutto, se noi ricordiamo il Natale dell'anno scorso, quello fu un Natale di restrizioni, questo è un Natale di gran luce, è tutto aperto sostanzialmente. Poi certo ci sono delle misure, ma di fatto è tutto aperto, grazie anche alla campagna vaccinale. Ma quello che non si dice e diciamo che non dicono questi che fanno questa facile propaganda sostanzialmente è che il virus ha anche un'imprevedibilità, cioè c'è stata una variante, non è colpa del governo che c'è stata una variante. Cioè tu dici i contagi risalgono, ma risalgono fondamentalmente perché c'è una variante. Fino da 20 giorni fa risalgono per due motivi, perché c'è gente che non si è vaccinata, faccio presente che oggi, ricordava Draghi, i tre quarti di quelli che stanno in terapia intensiva, i due terzi sono non vaccinati, quindi c'è un problema sempre di non vaccinati e un problema di variante che fino a 20 giorni fa non c'erano. Non capisco quale misura debba essere criticata, semmai all'ordine del giorno magari si provrà l'obbligo vaccinale. Eh sì, adesso vediamo, noi oggi proveremo anche con l'aiuto del professor Bassetti a ragionare sia dell'obbligo vaccinale e poi parleremo anche con l'aiuto del professor Preghiasco della situazione oggi nelle terapie intensive, ma intanto...